Da una parte Matteo Carlosciotti con la calottina numero 2, dall'altra con la calottina numero 12 Mladocic a conquistare il primo possesso più veloce di Matteo Roma-Visnova in calottina bianca che attacca da destra e da sinistra i vostri schermi ovviamente calottina scura per Trieste Va Petronio, ma superiorità Roma-Visnova, Viscovic Ancora da uno c'è Di Rocco, Ciotti, l'altra parte De Robertis Ancora Ciotti, 6 secondi, De Robertis De Robertis finta il gol Primo gol, Romavisnova, sblocca il punteggio, Michele De Robertis Possesso per la squadra triestina Ancora numero 12, la palla va dentro, si libera ottimamente della marcatura e va in gol Che gol, questo da parte di Luca Marziali, gran gol, subito 1-1 De 5 metri, va Michele De Robertis Michele il gol, doppietta per lui 2-1 e Roma-Visnova La palla arriva dentro, la Beduina il gol Il gol, il gol della cortina numero 5, Verlic Avanza Razzi, dà la palla dentro, in due, attenzione, va nel pozzetto numero 4 che straga lì Arriva il gol, il gol Passaggio a zona, ecco c'è la possibilità di servire il posto 1 Ma ritorniamo da 3 con De Robertis per il finale De Robertis, Michele, De Robertis, ancora lui Quindi una superiorità che se ne va, praticamente 1 su 3 Dobbiamo dire Roma-Visnova, superiorità Dall'altra parte veloce, che bordata Che bordata da parte di Trieste Fallo semplice, arriva Kodgornik Ancora il dialogo, lunga distanza e gol E che gol, e che gol Applausi per lui Ravaggio Stari, veloce dal perimetro Con Amlarosic, ancora riceve lui Finta Che azione, che gol Di De Petronio Riparte Valentino Con la zona centrale Attenzione al suo offendente Torna sotto, Valentino, venti del gol Il gol è ancora qua E' un tiro e un gol Un tiro e un gol De Robertis Due dei tre gol della Roma-Visnova Va lui E' il gol Quarto gol Roma-Visnova Con De Robertis E Caruso aveva intuito Mancano cinque minuti alla termine della terza frazione Vertice destro Ancora Kodgornik Valentino Da un occhio Dall'altra parte Dove cerca e trova Dasic E Dasic va in gol Nono gol C'è Valentino Può aggiustare dal perimetro Ancora con De Robertis Dall'altra parte E il tiro e un gol Il tiro e un gol di Mattia Antonucci Va Petronio dai 5 metri Il tiro e il gol di Petronio 10-5 Si fa sentire la difesa di Trieste E batte Viscovic Ante Viscovic Questa di Rocco Dall'altra parte Con Antonucci C'è uno Viscovic La palla dentro Non arriva Di Rocco Ce l'ha tra le mani Luca Di Rocco In superiorità Attenzione Perché è veloce Questa circolazione di palla Petronio Poi ancora l'altra parte Ottimamente portata Qui c'è Petronio Che va ancora a segno No Non è Petronio Ma è Kodgornik Vediamo se cercano gli angoli Oppure no Poli L'altra parte Tutto libero In gol Roma Bisnova Con la carottina numero 10 Andrea Nasciso Su Ante Viscovic Che quando la palla Va sull'esterno Adesso subiamo un contropiede Proprio dal lato Di Viscovic Con Il tiro Potente Di Dasic Che prende la traversa Ma poi Entra in rete Dobbiamo Sicuramente Migliorare Questo Questo fattore Abbiamo ancora due minuti Per 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 farlo Non subire adesso Queste situazioni Facili Di due contro uno Eccolo qua Subiamo il gol Di Petronio Vediamo cosa farà E lo portano Fino in fondo Il tiro e il gol Il tiro e il gol Corra da parte di Petronio Attenzione Petronio Tutto solo Serie di finte E il gol Tutto molto bello Tutto molto semplice 15-8 Finisce La partita Vince Trieste Con merito La Roma-Visnova Che ha tenuto Daniele Per tre tempi Bene Ritmo buono A punto di vista Anche del nuoto Mancata Quel cinismo Quell'esperienza Ovviamente Giocatori di un Certo livello A Trieste Per tre tempi